Equilibrio propone una nuova linea per capelli, di che cosa si tratta? Si tratta di una linea speciale composta di nove prodotti, tre shampoo, tre balsamo e tre maschere capelli completamente a base di ingredienti naturali, infatti ciascuna formula ha una somma di ingredienti naturali e di origine naturali pari al 98% senza siliconi ma con un'azione condizionante data da ingredienti naturali ad azione silicone simili. La linea si basa su tre ingredienti principali, i nostri tre ingredienti principali, la principale in assoluto è l'aloe vera ad azione idratante, riequilibrante, abbiamo poi il karité ad azione nutriente e infine l'olio di argan ad azione protettiva. Quindi una linea completa che soddisfa le esigenze diverse dei nostri consumatori.